partiti di division 2 dopo la missione museo viviev point continuo adesso da qui dalla casa bianca i bottini ve li ho fatti vedere nel precedente video quindi adesso venderò ho sbloccato un come si chiama via da su scusate per l'ora è un'ora tardi sono l'1 45 dell'8 agosto di notte 1 e 46 adesso 8 agosto 2019 ingresso in area sicura allora sono arrivato qui vediamo ancora le armi vinto m16 che l'avevo provato fatto vedere nel video ecco questo cta r è interessante ok equipaggiato famas allora arma 1 arma 2 quindi io adesso prendo questo io rivolgo anche famas e anche quello così provo tutte e due sembra che fa più danni questo qui cta r va bene ok andiamo dal venditore come sono messo qui potenzialmente casa bianca 1 di 8 però le abilità mi ha detto che ne ho sbloccata una eh quindi entriamo ciao agente è un momento momento prima vediamo tutte le cose qui cosa c'è questi sono uguali 7% e 15 ok però è un livello 8 fondina va bene questa le maschere ok devo andare poi dopo di qui cosa posso fare per te sbloccare questo lo vendiamo questo m16 ma non mi piace via via questa via questa anche questo via via bello fare affari con te grazie grazie ok questo lo vendiamo proprio ok mi sono liberato di tutto è lui che mi sembra che mi da le abilità abbiamo una nuova abilità per te quale vuoi ok fammi vedere prima una cosa il drone cosa fa ah qua ci vogliono 5 pezzi il difensore usa il drone microonde monta sul drone deviare i proiettili va bene allora vediamo un'altra abilità la mia ricerca è sempre la solita poi c'è una torretta io è lo scudo interessante lo scudo se va con la mi protegge però dovrei usare un mitra l'uccio che cosa fa questo non sappiamo è una piattaforma vedo 3 qualcosa forse serve per vedere e questo alveare chi lo sa lanciatore chimico ah io quasi quasi mi prendo lo scudo intanto ok per sbloccarlo prendo lo scudo vantaggi vantaggi ah i vantaggi mi devo ricordare srottarmi c'è un qualcosa nei vantaggi ma che cosa questo cos'è il caricatore devo sbloccare tutti questi vantaggi qui non lo so tecnologia sce 18 ah lo posso comprare questo facendo rifornimento appuntamente in una zona richiederà tutti i kid corazza richiede uno io c'ho 18 un momento andiamo sul caricatore ricompensa borsello un caricatore tattico combattivi con tutte le armi nastro lo prendo sblocca ecco qua è il primo poi che succede caricatore 2 bilanciato col 556 quindi mi chiede 4 sblocchi le armi quelle armi d'assalto 7,62 caricatore 5,56 vediamo un attimo buona fortuna eh dovrei fare il caricatore vediamo le armi mod binario sotto canna corta binario ottica lunga no questo è un 556 quindi è un momento allora invece di usare qui nelle abilità a posto del drone io metto lo scudo ok si ho segnato lo slot non ho visto sotto le tre cose punti abilità ce ne vogliono due ancora scudo crociato ok deflettore vabbè poi vediamo allora lo scudo ce l'ho adesso devo capire come si fanno i pezzi quartier mastro vantaggi allora smantellando un oggetto ecco la fai da te hai la possibilità di ottenere materiali rari allora andiamo sul caricatore sbocchiamo il secondo tanto i cosi ci sono qua ok sbocchiamo tutto e sulle armi siamo a posto questo è il freno di volata ampio via sbocchiamo anche questi l'ultimo si è iniziatore ok cosa mi occorre ancora ah il kit pronto soccorso potete esploitare ancora un kit coraggio in più per un totale di quattro eh sì uno ok fatto tutto questo maestria sul campo ce ne vogliono cinque quando apri una cassa 50 per cento bonus un oggetto questo rifornimento un kit corazza facendo rifornimento entri in una zona sicura e ricaricherà tutti i kit corazza questo cosa fa granate poi aggiungere una granate in più questo donare risorse avamposto questo questo la capacità di stoccaggio materiale aumentata di 50 va bene per il momento ricompensa impugnatura sotto canna con le armi a binario lungo questa potrebbe essere buona e questo qui è accesso a una taglia difficile al giorno richiede otis sic di vero necessario 30 quindi non sono ancora lì questo donazioni va bene questo aumenta la quantità di munizioni eh mi manca un pezzo per l'arma distintiva richiesta di supporto trovate ecco qua c'è una richiesta di supposto di supporto di supposto vantaggi volato si ho capito ma i pezzi dove sono qui dice anche abiti cos'è che ho sbloccato negli abiti una cassa ah mi ha dato un qualcosa perché l'ho visto un regalo ma non è il portafoglio è zero mi ha fatto vedere la lista premium l'abbiamo già visto casse abiti skin armi no aggressore ma questa qui dove la prendi questa arma non è ancora sbloccato la specializzazione esperto di sopravvivenza ah e questo è un minigun arca era prezzo 700 questa arma può essere applicata solo all'arma distintiva minigun non è ancora sbloccato la specializzazione mitragliere questo è un lanciagranate eh sì mhm esperto in demolizioni va bene quindi poi vediamo su questa qui vediamo questo cos'è in evidenza ah niente 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 togliamoci da qui adesso devo capire se queste armi sono già equipaggiate non penso che non lo vedo quindi dove si fa chi è questo vediamo cosa c'è in giro qua armory armory venditore questo che fa niente allora vediamo la mappa cos'è questo conflitto 42 metri allora da chi devo andare qua novi progetti sì 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 fino a qua ci siamo ma non non dov'è il caricatore qua tutti i prezzi sono trattabili c'è un qualcosa qua dispositivo elettronico portati e rilevato sì sì non so ho visto anch'io prima dimmi Alice non hai mai l'impressione che sia tutto un enorme scherzo e divertente c'è ben poco signor presidente smettila hai capito cosa voglio dire non ne sono sicuro è che tutto sembra sempre complicarsi più del normale è come se ci fosse qualcosa che ci rima sempre contro tu hai il potere è normale che ci sia sempre qualcuno che prova a metterti è sicuro di volerlo fare all'opinione pubblica non piacerà con tutto il rispetto signor Mendez fanculo l'opinione pubblica Manhattan è in stato di crisi e questa è l'ultima chance che ho può scommettarci che farò un tentativo ok tutto il telefono qui sia solo per poco Carlos grazie per avermi risposto so perfettamente che anche tu sei in difficoltà no no capisco non è il momento per i convenevoli no niente cura senti se avessimo ottenuto qualche risultato lo condivideremmo questa storia va oltre gli interessi nazionali interrompiamo la conversazione e andiamo a vedere all'entrata della casa bianca come sono messo qui non passi eccoci qua allora abilità 3 di 8 staff 1 di 8 teatro 2 di 4 quindi io devo trovare gli altri 8 staff qui c'è un player magari nei punti dove vediamo che già qua ah progetti vediamo qui progetto obbligatorio ceramica 31 di 200 abbiamo trovato dona ceramiche dona zani sabota la propaganda ecco andiamo a vedere questo ah l'ho fatto rifornire recupero le casse shade a danton s2 di 4 e ho finito questo teatro acciaio 23 di 200 dona acciaio dona gino acchiere naturalizza i veterani iene ok finisce questa storia e teatro cosa dice il policarbonato ce l'ho 66 ne devo dare solo 5 dona dei guanti impedisce l'esecuzione pubblica l'ho già fatta no sì quindi andiamo a vedere che ho fatto attività ostile l'ho fatte allora andiamo a down finiamo questa down 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 downtown po est come è scritto qui town downtown est vediamo downtown est dov'è questo che è vediamo ehi agente da un'occhiata qui cosa che vende posso vedere conmigo ah questo è livello 8 la maschera 510 niente non hai grazie agente è stato un piacere anche per me contatto chi è questa a conflitto 4 contro 4 statistiche normatizzate partite veloce alla prossima non sono ancora pronto qui c'è niente andiamo a vedere qua giù ah qui è l'uscita allora andiamo in down town poi me la vedo dove è sto down town è qui ok quindi cosa devo fare andiamo qua andiamo a vedere spostamento rapido qui c'è da scrivere con carta e penna le cose non c'è da fare sempre pierre le cose non c'è da fare ma non c'è da fare bene non c'è da fare gioco non c'è da fare qui c'è da fare ciò direttamente civili in difficoltà chi è questo fai da te ciao sono in aia ti aiuterò alla base operativa con la fabbricazione degli equipaggiamenti piacere di conoscerti anche per me grazie quindi questa l'ho sboccata c'è un'altra testa un'altra capa sbocchiamo anche lui solidarietà allora vediamo qui cosa dice operazione gress larson senate 0 ufficiale zona nera charles dagras città di missione richiesta 2d4 per trovare questo ma è lui grace larson vediamo mi hanno chiesto di trasferirmi alla base operativa e aiutarti a coordinarti con gli altri agenti venimi a trovare al lavoro va bene quindi questa è sblocata non me l'aveva sblocata inizialmente questa è per i più giovani abbiamo una nuova sala giochi così sentiranno finalmente di avere una vita un po più normale ma già abbiamo un sistema di depurazione dell'acqua ci salverà la vita vediamo se da quassù vedo qualche cosa ma adesso il venditore magari mi vende caricatori andiamo a vedere vuoi dare un'occhiata alla mia roba no adoro fare affari con te allora torniamo qua cosa bianca per vedere che cosa la novità quello che è successo adesso ecco vediamo qua staff 3d8 potenzialmente rosa bianca sempre è una barra torniamo qua dentro venditore vediamo solo niente bello trattare con te agente ok lui le cose non date vantaggi ecco qua lista del personale ne ho bloccate queste due e questo dov'è grace larson dove finire due missioni è vero però era lì mi sembra un po' strano 1 2 3 4 5 vediamo i vantaggi eccolo qua caricatore fatto è sbloccato questo è sbloccato sbloccato come si fa ad avere il caricatore ah ricompense caricatore ricompense nelle ricompense ho capito quindi mi devo fare altre due missioni continua così non mollare stazione fai da te dov'è 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 dove dov'è nuovo servizio disponibile dov'è la stazione fai da te è questa ah c'è un marchio dirà vediamo se qua dentro si 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 adesso dovrei avere tutto ciò che mi serve non vedo l'ora di iniziare allora puoi creare oggetti della stazione si questo lo sapevamo ok vediamo tutto ok vediamo cosa fa qua dentro apri il menu ok arma no maschera guanti c'ho una persona che passeggia qui ah questo fa lo zaino mod mod bonus casale bisogna vedere il mio zaino un secondo un secondo questa è un'altra che non ho schema acquista da lei queste cose 127 ok nuovo servizio disponibile clan ecco andiamo qui questo scudo dispositivo elettronico dispositivo elettronico rilevato comunicazione prioritaria a tutti gli agenti attivi vi rendiamo noto di aver revocato lo status di agente ad Aaron Kinner nome in cod agente necessita supporto buongiorno se vuoi unirti agli altri agenti sono qui per assisterti trovacan crea fan gestisci gli inviti ok questo è a posto qui c'è un telefono ancora comunicazione prioritaria a tutti gli agenti attivi il responsabile della creazione e della diffusione del virus chimera variola noto come influenza delle banconote o veleno verde è stato identificato nella persona del dottor Gordon Emerst il suo cadavere è stato trovato e identificato chiamati in arrivo dall'agente ma il tastino qual'è? fine messaggio io non c'ho quel segno lì c'ho questo e questo quello che riguarda le mie cose e questo in mezzo no ah si si sta aprendo qualcosa qua si è bloccato beh è già passata mezz'ora soltanto per cosa c'è qua su? compre e vendi su di là si può andare? no andiamo a vedere le facce sono sempre quelle qui vantaggi cos'è che c'è? ecco ecco è ciao 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 basta ok allora il video adesso lo fermo qui mi riposo perché sono stanco vediamo le prossime emissioni domani ciao a tutti buona giornata che domani che cos'è siamo già giovedì giovedì 8 agosto ciao a tutti ciao ciao